Ciao a tutti, sono Luigi Pisani, sono un attore e un regista e all'interno dell'Accademia Europea Formatori Teatrali mi occuperò dell'ambito della recitazione. Impronterò il mio lavoro soprattutto sull'aspetto pratico della recitazione e soprattutto mi specializzerò sull'attitudine allo stare in scena. Cercherò di trasmettere ai formatori futuri teatrali questo senso di empatia che si deve sviluppare tra l'allievo e il formatore. Quindi attraverso un lavoro di empatia, di improvvisazione e di sperimentazione su quelle che sono le corde intime degli allievi cercheremo di sviluppare un metodo che vada poi a concretizzarsi nel pratico con la pratica teatrale. Vi invito a venire numerosi perché il lavoro è molto articolato, molto complesso e lo staff è veramente di qualità. Abbiamo psicologi, logopedisti, preparatori atletici, fisioterapisti, veramente una preparazione, una formazione a tutto tondo. C'è bisogno tanto di questo a mio avviso all'interno del vasto mercato della formazione teatrale e questa accademia può veramente formare dei formatori di prim'ordine che in futuro formeranno degli attori di prim'ordine. Grazie e a presto. Ciao!